E comunque la faccianda del nuovo tutore è stata utile, no? Che vuoi dire? In fin dei conti è lui che ha salvato i ragazzi. Va bene, va bene, ma lo sai che non lo sopporto, per cui ora balliamo, ok? Balliamo! Sì, allora, secondo i miei calcoli, se sono esatti, la porta dovrebbe essere forzata proprio in questo... in questo punto, sì, forse. Togliti! Togliti! Li distruggo tutti! Giuro che li distruggo tutti! Questa festa è finita! Adesso vi ammazzo! Uno alla volta! Massimo, sei venuto! Thomas! Forza, tirati su! Eh, signor giudice, non è... Non è come pensa, stavamo facendo una ricerca per la scuola, una ricerca sulle feste... Hai capito ora perché l'ho fatta chiamare? Un momento, che ci fa quel tipo in casa mia? Il signor Calderon della Oia deve adempiere i suoi obblighi di legge. Che vuol dire che deve sposarsi una principessa? Vuol dire che deve diventare il tutore di questa famiglia e che dovrà stabilirsi definitivamente in questa casa, che lui lo voglia o no. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Perdi mi vida, mi alma, mi confianza. Tu me pariste con moneda falsa. Perdi mi piel, mis noches de locura. Perdi mi tiempo, no me quedan dudas. Andai, dile a tu cariño Que no es bienvenido en este corazón Andai, dile a tu cariño Que hoy mismo juré no sufrir por amor De tus carichos estoy cansada Y de tu vida no quiero nada Ya tus carices no me hacen falta Yo quiero amor, no solo... Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!